Non si escludono risvolti a livello penale non solo sul caso delle 16 isole ecologiche installate a Francavilla Fontana nel 2016 da due ditte campane e mai entrate in funzione perché malfunzionanti, tanto da essere state rimosse nell'ottobre del 2020 dal sindaco Antonello Denuzzo. Si tratta di una vicenda dai contorni troppo poco chiari, come ha scritto nella relazione conclusiva Adriana Balestra, consigliere comunale della Lega, nelle vestiti presidente della commissione d'indagine. Si è conclusa la commissione d'indagine in sole quattro sedute. Dalla documentazione che peraltro è tuttora incompleta, sono state anche fatte diverse istanze di accesso agli atti a chi di competenza per recuperare realtà della documentazione che dovrebbe essere già in possesso dell'ente comunale. Sono emerse molte criticità e anomalie che necessitano sicuramente di approfondimenti ulteriori nelle sedi competenti e quindi procure e corte dei conti perché non si può trascurare la possibilità di un danno erariale. È interessante notare come gli assenti siano stati proprio i componenti del PD. L'ultima commissione, quando abbiamo tratto poi le conclusioni, era presente anche la componente del Movimento 5 Stelle, per cui all'unanimità si è giunti alla conclusione di dover approfondire la questione nelle sedi competenti della Procura e della Corte dei Conti. In una interrogazione consigliare dell'ottobre del 2020 avanzata dai gruppi consigliari della maggioranza, era stata ipotizzata una colossale truffa ai danni della città. Si dovranno accertare eventuali responsabilità a livello amministrativo e politico per un caso già noto alla Regione Puglia.